E una delle strade a rischio nel Cilento di Sestato è la strada provinciale 93, Rofrano-Ponte Trave, che connette il paese cilentano con Alfano e la Statale 18. Da anni ostaggio di una frana, ma l'aggravarsi del cedimento del terreno nell'ultimo periodo ha fatto venire giù i piloni che la sostenevano, creando un dislivello sulla carreggiata e portando addirittura parte del muretto di cemento armato che la costeggia a spezzarsi. Sulla via ora si transita, ma con una serie di restringimenti e cautele, mentre il rischio che il fronte frana si ampli resta incombente. E' una delle tante storie di dissesto idrogeologico del Salernitano risvegliatesi in questo periodo. La provincia di Salerno, proprietaria dell'Arteria, si è impegnata a risolvere il problema e la strada è stata inserita nell'elenco dei tratti ammessi a finanziamento dalla regione Campania. Per l'Arofrano-Ponte Trave è stato stanziato 1 milione e 100 mila euro. C'è già il progetto esecutivo. La prossima settimana gli atti verranno trasferiti alla regione e si andrà in gara. La cifra messa a disposizione è consistente e fa pensare ad una risoluzione definitiva del problema. Almeno si spera, visto che la strada in passato è stata oggetto di diversi interventi da parte della provincia, senza che per questo si riuscisse ad arginare la frana. Solo nel 2011 vennero appaltati lavori per 250 mila euro. In questi anni anche il comune di Arofrano si è impegnato a intervenire con soluzioni tampone previa autorizzazione per consentire la viabilità sulla strada. Ma fino ad ora è risultato complesso mettere a punto un sistema di reggimentazione delle acque tale da porre fine al problema. Ecco perché ora si attendono con ansia i nuovi lavori.